Salve a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video di Soluzioni PC Oggi parleremo di Google Chrome Di come impostare la home page su questo recente browser di casa Google Andiamo subito ad aprire Chrome Questa è la home page di default Che è semplicemente una scheda vuota Le icone, adesso le mie sono liveamente modificate Ma le vostre saranno simili Ma magari qualcuna in meno Andiamo immediatamente in alto a destra Sul pulsante con le tre lineette E selezioniamo impostazioni Sulle impostazioni abbiamo la dicitura all'avvio Cioè che cosa deve succedere all'avvio di Google Chrome Attualmente è selezionato apri la pagina nuova scheda Che è quella che abbiamo visto prima Questa qua Noi ci interessa una pagina nostra Una pagina home page che noi vogliamo inserire Quindi selezioniamo apri una specifica pagina O un insieme di pagine Una volta selezionata quest'opzione Andiamo su imposta pagina Che saranno le pagine o la pagina Che noi vorremmo aprire all'avvio Allora per esempio Settiamo il nostro canale Che è soluzioni PC Adesso una volta selezionato Ci chiede anche un'altra pagina Cioè se vogliamo aprire più di una pagina All'avvio Ma a noi ci basta soluzioni PC Una volta scritto l'URL Premiamo OK E non dobbiamo fare nient'altro Non ci sono conferme Non ci sono altri pulsanti da premere È sufficiente chiudere il browser E riaprirlo Ed ecco qui Immediatamente ci porta sulla nostra home page Ma che cosa vogliamo fare Se a un certo punto della nostra navigazione Su un qualsiasi altro sito Noi volessimo tornare sulla nostra home page Di default non c'è su Chrome un pulsante home page Ma dobbiamo attivarlo Ritorniamo di nuovo sulle impostazioni Come prima E scendiamo lievemente più in basso E cecchiamo L'opzione Mostra pulsante pagina iniziale Una volta ceccato Immediatamente Qui in alto Comparirà la casetta Che è il nostro Pulsante per tornare Alla pagina iniziale Che però è diversa Sarà diversa Dalla pagina Che abbiamo selezionato Come avvio Perché sarà diversa Perché c'è l'opzione Di poterla Di poterla cambiare Qui per esempio È settato Google Di default Però noi Vogliamo Ugualmente Che la nostra Home page Cioè Pagina iniziale Sia uguale Sia uguale Alla pagina di avvio Quindi Inseriamo nuovamente Il L'url Del nostro canale Premiamo ok E una volta Che Avrò inserito L'url Posso premere Il pulsante Pagina iniziale E verrò riportato Immediatamente Alla pagina iniziale Che è il nostro Canale Detto questo Adesso Ho completamente Settato Google Chrome Quindi Alla bio Avrò Soluzioni PC Una volta Che Avrò Sarò andato In un qualsiasi Altro sito Cliccando Sulla home page Avrò Di nuovo Il mio canale Spero di essere Stato Esauriente Un saluto A tutti E ci vediamo Alla prossima Soluzione